Al network a queste immagini inquietanti di due persone di colore sedute su una panchina con questa scritta ecco queste sono due delle forze che dovrebbero sostituirci e incassano i nostri 35 euro ma c'è una sorpresa, andando a fare la verifica salta fuori che sono Samuel Jackson, attore famosissimo e Magic Johnson, cestista, giocatore di basket storico quindi dobbiamo sempre stare attenti a controllare l'origine delle notizie e anche delle immagini